Il lavoro è stato quello di cercare di costruire insieme a Matteo quelle tipologie umane che tanto ci affascinavano del nostro territorio e di cui Matteo voleva fortemente parlare e io sono stato ben felice di assecondarlo e di costruire insieme a lui. Paolo è una tipologia diffusa nel nostro territorio, è quella sostanzialmente del balordo, del borderline, non è un barbone, ma è uno che vive di mezzucci, è uno che tira a campare come può, è un furbetto, non è un disonesto, ma è un indolente sostanzialmente, uno che si contenta di stare come sta, non ha progetti di vita, è l'unica cosa che interroga per vedere il suo futuro è il fondo del bicchiere, che per lui è sempre vuoto perché quando si riempie subito, opla!